Hola io sono Marcus Grame e signore e signori bentornati nella fantastico mondo dell'InversiCraft nell'ultima puntata abbiamo visto un po' di ammennicoli, esatto, quanto mi piace la parola ammennicolo lasciamo qui la cosa, guardate qui il nostro mondo, mi è un po' mancato questi giorni che non sono stato a casa mi è mancato a giocare a questo mondo perché è bellissimo, bellissimo, bellissimo abbiamo visto il mixer che è il macchinario che ci fa il concrete e mi avete detto tutti no Marcus non lo fare dappertutto regalo lo voglio fare dappertutto, lo voglio fare soltanto qui dove c'è la zona di scavo e poi un ragazzo che probabilmente è del mestiere, io ragazzi dovete sapere che le mie doti da manuale sì da manuale, da manuale sono zero, cioè zero io se tocco una pala nella vita reale probabilmente muoiono delle persone, esplode tutto quanto faccio schifo, l'unica cosa che riesco a fare, ma proprio riesco 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 e attaccare due cavi tra di loro però non so se poi è il polo positivo o il polo negativo, quindi cioè non, 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 mai mai chiedere a Marcus Crona di fare una cosa del genere, ma proprio mai, 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 mai sto cercando disperatamente del ferro perché non mi va di tornare indietro per farvi vedere quello che mi ha detto il ragazzotto, però a questo point of situation torniamo a casa, oppela allora quello che mi ha detto il ragazzotto è molto semplice in realtà e ci potevo arrivare, ci si poteva arrivare a meno che tu non fossi me è caduto un control base ok, iniziate il ferro, oh yes hop, 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 ci facciamo il nostro cicciottino molto good, vediamo se abbiamo una pala una pala, per favore, no, l'ho lasciata al magazzino io non riesco a capire perché mi è stata di tutti ogni tanto è troppo buio, ma certe volte cioè io guardo il mio schermo di destra dove c'è la registrazione raga ma si vede benissimo cioè è color luce avete mai provato a mettere una candela dentro una caverna? eh, non è giorno, questo è giorno questo è normale a meno che non mi dite, metti i cavi quelli che cacchio che so, metti la corrente quella super tecnica cioè super moderna tipo neon sparato, allora fa luce bianca e ci sta, ah, a proposito fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti ho duplicato questo l'ho duplicato, ho messo tante pale lì dentro qui c'è un piccolo baghino grafico e un baghino con i cosi che ogni tanto sono abbastanza imprecisi ma come potete vedere funziona benissimo perché c'è questo splitting conveyor belt che manda un po' di qua e un po' di là quando uno dei due è pieno, ok manda, il comparator manda il segnale quando è abbastanza pieno il segnale arriva fino a uno dei due repeater che bloccano l'hopper ad esempio se io faccio così hoppe là e tolgo questo dovrebbe, eccoli qua guardate che partono stavo per dire partiscono vedete si splittano hop, hop, hop piano piano il segnale cresce fino a quando quello lì non si accenderà e quindi questo ciccio si blocca subito dopo andiamo a rimetterci questi qui quindi è fantastico funziona alla grande e non vi dico che c'è qua dentro perché siamo una puntata più avanti di quando abbiamo fatto la live la live di venerdì dove abbiamo trattato quello che c'è qui dentro fantasticissimo ma visto che non voglio spoilerarvi niente vede cioè non posso dirvi di vedervela avete già vista cioè se l'avete vista già l'avete vista andiamo a fare altro per l'appunto però ancora prima voglio farvi vedere sta cosa sto ragazzo dice amico caro manfrede di marcus cron tu devi semplicemente fare il tuo fossatino come se fosse il cemento quello reale e io di cemento quello reale ne so quanto della fisica quantistica ok lui ha detto devi fare il tuo buco hoppe là voilà chiudi qui chiudi qui chiudi qui chiudi qui e devi versare il cemento mentre mi scrivono su facebook devi versare il cemento semplicemente colandolo e facendolo seccare senza però farlo andare come l'hai fatto tu nell'acqua perché non vivrei il cemento pronto 7 millibugget ma sono un pirla dicevamo dopo l'ennesima dimenticanza del vostro sempre più rincoglialito marcus cron si dovrebbe fare così da quello che mi dice il mio amico vediamo se è vero vediamo un po' no 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 cosa stai facendo perché non mi si bello bello ok qui c'è c'è un piccolo un piccolo problema ma va bene ok quindi questo qui è il modo per cementificare giusto giusto e vi ricordo che non volevo cementificare tutta la nostra area verde bellissima proprio dove è andato il mio il mio volo volo facile dov'è ma volevo cementificare soltanto quest'area industriale dove stiamo scavando e quindi i fiorellini fiorellosi la vedo male ma è da suggerire di farlo con la corsair dirt però sinceramente non lo so ma adesso andiamo a dormire e poi andiamo a fare cosine sfiziose dalla immersive ovviamente buongiorno allora ragazzotti quello che voglio fare oggi è un'implementazione ma non per quanto riguarda l'efficienza normalmente in minecraft moddato si ricerca l'efficienza si fa una farmina e poi la si migliora quando andiamo avanti ok in questo caso è giusto non pensare all'efficienza ma pensare alla bellezza e alla congruenza infatti un ragazzotto un po' di video fa mi ha fatto un commento sulla mob farm e mi ha detto caro marcos cosa gli ha detto caro marcos secondo me la mob farm sarebbe più bella e questa qui è casa e non è la mob farm eccola qua sarebbe più bella se non usassi questi spuntoni allora non che non siano realistici ok però secondo lui ed effettivamente anche secondo me sarebbe più figo con un altro ciccio ciccio che oggi andiamo a fare e secondo me è bello da vedere è proprio bello è bello lui è bella l'idea è bella la visualizzazione della cosa quindi adesso stiamo laggando perché è giusto che stiamo laggando no ritorniamo un attimo a casa perché a casa abbiamo qui dietro che devo spostare tra l'altro eccola qua il nostro alloy kint che ci fa il costantino costantino è costantino c'è fare mannaggia la pazzia andiamo qui perché il costantino ci serve per fare questo qui il termo electric generator vedete costantino yes e poi c'è questo qui che è normale quindi ce l'abbiamo basta lasciaci qui mi pare che questo qui fosse quello delle plate era questo vediamo vediamo che dice che racconta yes yes fantastico devo ancora sistemarlo ragazzotti perché ero partito stavo in vacanza e quindi adesso sei strunzo ma niente mi acchiappi sempre le cose che non voglio ci facciamo un po' di plate di costantino ma ancora a mano e vabbè oh yes niente male guardate qua un botto di copper wire ci ho buttato il copper ovviamente e un botto di costantino plate andiamo a prendere le ultime copper wire perché ci servono sia per fare il termo electric generator sia per fare la cosa figa la cosa figa che molti avranno capito soprattutto probabilmente dal fatto che vi spoilero sempre le cose da titolo ma va bene eccoci quindi nella nostra zona del magazzino ah tra l'altro una cosina che volevo dirvi è che raga quella lì è casa mia questo qui è il magazzino voi avete mai sentito di un tizio salvo rari casi particolari che vive dove c'è il magazzino nope quindi lo so che mi è stata di trasferirmi qua ma secondo me non ci sta secondo me è carino e lì c'è casetta con i suppelletti l'illetto l'acquario le casse ancora un po' da sistemare lo ammetto e al massimo l'allargo perché è piccina piccina piccio e di qua invece c'è il magazzino ci sta secondo me è più faico è più faico andiamo a prendere queste cosine andiamo a prendere queste cosine hopperà e andiamo a mettere lo slagga via queste cose via e il bitume dove si loca il bitume c'è un posto per il bitume sono contento andiamo oh ma qui ce ne stanno 4 io me ne prendo me ne prendo 4 molto bene andiamo a vedere un po' tesla coil eccolo la figata alluminio hv capacitator che si fa focile 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 e voglio fare 2 visto che c'ho 4 di questi ma si ma se può fa ma lo facciamo e visto che c'ho tanti di quelli lì me ne metto a fare un pochettino hopperà ed hopperà perfetto ok adesso ce ne abbiamo 14 stiamo tranquillissimi quindi silver che però è alluminio questo qui che sei non me lo dici pronto è vuoto è vero avevo finito l'alluminio no devo spostare quel coso oh mio dio devo spostarlo dimmi che c'è qui dell'alluminio dimmi no 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 si si bello de casa si vieni qui da marcus cron tu vieni oh si 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 perfetto 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 ragazzi ricordatemelo nei commenti perché prima o poi me lo scordo e stiamo senza alluminio è una cosa brutta da fare qui serve ancora altro alluminio serve il blocco di lid e il blocco di ok 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 il blocco di redstone quindi facciamo blocco di lid blocco di redstone hopperà e andiamo a prendere anche un bel po' di steel ci dovremmo essere ok ne facciamo oh ho lì 4 why why you do this sorry 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 cioè ho lì 3 mi mancano 2 di questi sul serio no questo è spruce mi mancano 2 di questi togliamo questi oh togliamo questi ma se hai se hai un fesso se hai un fessato ok e adesso dovresti farmi fare il quarto per uffetto omg cosa è successo ragazzi credo di avere combinato un pastrocchio ho creato uno di questi e poi un altro di questo ma io voglio farne come buono lei io voglio fare un altro di questo prima me ne serve ancora che casino che casino quando non c'hai l'uplet ma non la metterò signori non la metterò noi meritiamo ma scusa eh ma io ho preso il dark wood ho preso oh ce l'abbiamo ce l'abbiamo crafting di merda oh quattro e dai perfetto due tesla coil andiamo a vedere scusate eh ci ho messo un po' andiamo a vedere quanto sono oh lag quanto sono fighi oppela prendiamo queste cosine qui andiamo dove c'è la corrente però prima andiamo a dormire va oppela buongiornissimo caffè allora andiamo in una zona una zona dove ho l'alta tensione ma voglio che sia chiara voglio farvi vedere il più possibile di questo coso allora mettiamolo qui ma quanto sei bello quanto sei bello quanto sei bello e sei anche glicciato mi sa che è glicciatino si eh shader galeotta full shader ragazzi purtroppo dobbiamo tenerci alcune cose così glicciatine perché è figa la shader dai parliamoci chiara è fighissima la shader andiamo a collegare oh non mi fa passare andiamo a collegare di qua questo cavo con questo perfetto l'energia arriva signori andiamo ad invertire la redstone guardate oh oh quanto cazzo di danno fai quattro cuori oh che 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 cacchiarola che 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 allora ragazzi per essere immuni a questo danno dobbiamo mettere la nostra faraday ecco perché tutti vi dicevano ma perché non fai perché quell'armatura che c'hai a che te serve cioè non dovrebbe essere superiore al davanti non è superiore al davanti ma vediamo ecco qua vedete mi rende proprio immune ma immune proprio oh mio dio mi ha ucciso mi ha steccato mi ha dato una sua alta incredibile cosa ah dai facepalm 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 ok temo di aver letto male ti salva soltanto quando è in low power e adesso invece è in high power quindi ragazzi dobbiamo andare a fare velocissimamente un trick magico ok ok adesso oh si ok adesso non ci dovrebbero essere più problemi dovrebbe essere invertito riprendiamoci le nostre cose ok bortacci tua e de kinto dice che è una marazzata voce back buongiorno bortacci tua andiamo a metterci le nostre cosine ok questo questo e questo ora dovrei poter cambiare oh low mode adesso abbiamo l'armatura si low mode facciamo così come potete vedere oh yes ci fa la scossina ma non prendiamo danno non avevo idea del fatto che light power facesse così tanti danni caspiterina davvero caspiterina voglio verificare si evire che questi due cicci chiacchierano tra di loro a me sta quando vado qui mi attacca mi attacchi no vado qui si qui si qui no mi piace sparafleshare un pochino in giro va bene andiamo a fare così e riattacchiamoci qua mi devo ricordare di mettere un altro ciccio ciccio lì bauxite perfetto andiamo a vedere come si comporta intanto mettiamo low per favore ok togliamolo non mi pare che chiacchierino semplicemente tentano di scossarmi ma che figata sono ma che cacchio di figata sono ora visto che vediamo un po' 1 2 3 4 no ogni 3 mi attacca si ogni 3 noi abbiamo la possibilità di coprire i 10 della mob farm quindi terrei le ventole se per voi va bene o se avete altre idee ditemelo e metterei queste qui come facciamo però visto che la mia energia è lontanerrimissima ma proprio lontanerrimissima da da casa cioè la farm è lontana dovrei portare coi cavi così tanto nope andiamo a fare il termoelectric generator che è quello che inazionalmente vi ho detto termoelectric generator eccolo qua per cui serve il constant per cui serve il copper con il block e poi abbiamo soltanto bisogno di un po' di steel eccoci qua sono andato a dormire ho fatto il pieno di constants costanzo show andiamo a fare questi bellissimi ciccicici per cui ci manca soltanto lo steel ma che meraviglia oppela me ne fa già otto ma è fantasticissimo e non vedo l'ora di farne degli altri questi ciccicici sono sono strani perché tu li vedi e dici meh però hanno un potenziale incredibile andiamo a vedere un pochino da qualche parte sono sicuro ma sono sicurissimissimissimissimissimo che abbiamo l'uranio eccolo qua eccolo qua me ne dia un pochettino andiamo a prendere quest'altro ciccio e facciamo il blocco di uranio ma chi uranio esatto ora non so io non ho idea di come si prende il glass in vanilla scusate l'ice davvero raga non lo so cioè quello che non si squaglia dovrebbe essere questo il packet d'ice se non sbaglio mi hanno detto dei ragazzotti che si trovano il bioma ghiacciato rompendo il ghiaccio normale non mi ricordo ma niente ci vieta di farci un bel giretto ah una cosa ragazzotti ho dovuto togliere per un bug la mod delle stagioni perde un pochino perde un pochino il la bellezza del mondo me ne rendo conto non riesco a a cliccare sulla navicella però se c'era un bug c'era un bug non mi ricordo neanche che tipo di bug fosse però vabbè niente stagioni triste ho trovato con la nostra bussolotta magica questa qui un bioma che si chiama ice plains spike che tecnicamente dovrebbe essere il bioma io non lo so ragazzi perdonate sul vanilla sono ignorantissimo il bioma quello lì dove ci stanno gli orsi polari I think si trova a 6000 di distanza fortunatamente con il modulo io non sto con le mani sulla tastiera e possiamo andare 6000 blocchi un bel viaggetto ma poi avremo il nostro ghiaccetto ragazzi 1000 blocchi di distanza è stato un viaggio lungo 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 e ve lo dico ho messo giorno con la shit mode ma che è sta roba oh interessante molto interessante perché vedete sempre che da notte non ci si vede niente e probabilmente saremo arrivati che era già notte inoltrata quasi quasi giorno però voglio che vediate se vedete che da notte non ci si vede niente io quando succede cose del genere metto giorno di mio 600 blocchi è stato un bel viaggione ragazzi 6000 blocchi sono tanti 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 a questa velocità di crociera se fossimo andati a piedi io per cacchio che ci sarei arrivato ovviamente dimmi che mi sono portato le retorno a scroll oh si mi amo certe volte mi amo lo adoro lo adoro tantissimo e ditemi vi prego vi prego vi scoggiuro non ditemi che serve il sintaccio se no uccido qualcuno ok 300 blocchi ancora non vedo ghiaccio sono un po' preoccupato lì c'è un orticello ok qui c'è il campo dei fiori non mi dire che sei sbagliato lì c'è una struttura ma che bello ma guarda ma è bello ma è bello 200 blocchi si oh oh si oh si oh si ci siamo ci siamo yes che culo l'abbiamo trovato l'abbiamo penso ad andare in giro a cercarlo a mano madonna che culo questo è lui serve il siltaccio serve i coniglietti serve il siltaccio no 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 non mi puoi fare questo non mi puoi fare questo no serve il siltaccio che cosa no oddio no no perché lì c'è un albero nell'acqua perché 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 6000 bloc dodicimila andate ritorno no well ragazzi ho controllato tutte nelle nostre chest prese dalla farm di pesca e non c'è il touch quindi al momento poi ci troveremo un'altra destinazione al momento dobbiamo fare il sistemino vanilla cioè dobbiamo sperare che ci abbiamo di avere culo di avere culo col sistema vanilla quindi non mi ricordo mai se gli angoli li calcola dovrebbe essere un incattesimo di basso livello così dovrebbe andare ora come potete vedere giustamente da marco strato non c'è esperienza nessun problema perché perché avevo farmato un po' di esperienza off camera in open to lan eccoci qua e ho messo tutto non qui dove cacchio l'avevo messo forse il magazzino proprio in previsione di un'altra cosa però a questo punto senti ce la prendiamo ce la prendiamo questa esperienza 30 livelli 39 livelli ok ok dobbiamo essere fortunelli eh abbiamo bisogno di lapiscazzuli e a questo punto io farei il mio bel piccone di oro se non sbaglio l'oro ha un alto livello di incantabilità non mi ricordo che vuol dire cioè non ho mai capito che vuol dire usando minecraft moddato però vabbè tre picconi saremo così fortunati oppure no non lo so allora unbreaking efficiency efficiency se lo tolgo lo rimetto ci continua a dare la stessa roba giusto sì se io ti rompo scusate ragazzi ma qui stiamo proprio nel super vanilla io non ho proprio idea se ce lo rimetto unbreaking efficiency quindi io mi attacco al cacchio e devo fare così grazie vediamo un po' efficiency 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 va bene sto sprecando tutta la mia esperienza ok c'è il touch efficiency efficiency ok merda merda però voglio voglio rimanere con voi voglio che voi siate qui con me per per assistere alla alla poca alla poca fortuna che c'è il vostro marcus cron o al tremendo culo che potrebbe verificarsi nel caso positivo quindi prendiamone no facciamone tanti ok e questi qui poi li mettiamo in un'altra cestina oppela morbida magari anche questa quindi andiamo a buttarci questi due per effetto mamma mia dai che c'ho poca esperienza dai 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 unbreaking efficiency 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 mmm ok efficiency 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 mmm che dolore efficiency 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 mmm mamma mia oh sill touch sill touch sill touch oh yeah oh wow 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 andiamo a casa che vi faccio vedere perché sono così felix perché possiamo prendere sill touch no aspetta e metterlo qui grazie a questo coso qui noi mettiamo qui ci mettiamo un libro e ci riprendiamo sill touch però a sto punto quanta durabilità un piccone a me non me ne serve così tanta me ne servono un ventino quindi si potrebbe fare e mi perdonerete perché questa puntata durata davvero tanto che che userò il teletrasporto perdonatemi 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 giuro che poi metterò un waypoint e farò avanti a indirio due volte però per adesso oh sì oh sì minchia quanto ti consumi oh sì che bello vieni qui da papà tuo non rompiamolo perché poi ce lo riprendiamo non rompiamolo non rompiamo siamo ben attenti a non romperlo direi che posso possiamo possiamo ritenerci soddisfatti buttiamolo nella saccoccia madre di dios dove sta sta qui madre di dios che bucciaccio di culo però c'è alla fine l'abbiamo fatto e abbiamo sprecato un bel po' di livelli un bel po' prima c'avevo questi due pieni adesso eh 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 quando mi viene trasporto c'è un po' di lag però abbiamo il nostro packet ice ovvero il ghiaccio che non si scongela se sta al sole se sta vicino alle torce se sta a tutte cose quindi signori e signori possiamo andare a vedere come funziona il nostro bellissimo termo electric generator eccolo qua come funziona il nostro amico allora questo coso è l'abbiamo visto anche in altre mode effettivamente è un generatore di energia per differenza di calore e normalmente potrebbe andare ad acqua lava a che cacchio ne so fuoco acqua a non lo so onestamente credo ci siano altri fluidi contemplati ma se non sbaglio questo qui è la composizione migliore ovvero questo e questo signori questo ciccio dovrebbe iniziare a produrre corrente e se ne mettiamo due ok così dovrebbe produrre 40 rf su tic e voi dite oh marcus 40 fa davvero schifo ed effettivamente fa davvero schifo non lo nego però se ne mettiamo 10 sono 400 rf su tic se ne mettiamo 15 non so quanti sono credo sia più più di 600 sono 600 forse sì sono 600 e ci permettono di dare potenza al nostro tesla coil general watson american voice quindi signori andiamo a fare una piccolissima centrale elettrica con questi cosi quindi andiamo a prendere un pochino di questi un pochino di quelli un pochino di quell'altri e li andiamo ovviamente ci serve anche un palo avete visto un palo eccolo qui oh yes favoloso meraviglioso e ragazzotti andiamo quindi alla farm di experience A eccoci qua ho messo pacifica così non ci abbiamo i suoni maledetti dei blazer che fanno oh 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 allora dove farlo? a me piacerebbe a vista a me piacerebbe che si vedesse però no non ci dovrebbero essere problemi non ci dovrebbe l'importante è mettere le torce quindi andiamo a scavare qua patapim patapim patapem ma questo che cos'è? è coal non cintevesci molto good ne dobbiamo mettere una decina una decina eh la cosa più comune visto che l'uranio non è così tanto comune è ovviamente il package size la package tu nonno Antonio Calabro eccolo qui oppela e quindi a questo punto io lo metterei nella fila centrale perché possiamo fare una cosina del genere vediamo un po' uno due tre e quattro ci mettiamo questi qui qui ok qui mettiamo i nostri amici certo poi mi è un po' scomodo no mi sa che mi allargo perché mi è un po' scomodo andare qua dietro non che io ci debba andare però però non voglio oppela rompermi le waller quindi andiamo a mettere qui e qui ci allarghiamo che cos'è successo che cos'è siamo fuori siamo salvi siamo salvini salvini no vabbè andiamo a mettere per ora tappo guys è meglio tappare altrimenti ok poi ci ricordiamo di fare così allora mettiamo i nostri dove stanno pronto eccoli qua i termo electric mettiamo i nostri termo electric qui 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 perfetto ognuno di questi termo electric tocca vedete due con due facce il nostro ghiacciozzo morbido possibile che io ho sempre l'inventario piano lo so che mi odiate per questo però ma è possibile ma è davvero possibilissimo bah vabbè non ho colpe giuro giuro vostro anone non ho colpe quindi noi dobbiamo fargli toccare oppela oppela ed oppela oppela in realtà dovevo fare sta cosa con l'uranio qui ci va l'uranio perché ce l'ho di meno giusto quanto eh ma sì ma sì ma certo che sì ma certo allora togliamo questo e ci mettiamo l'uranio impoverito quindi no quindi fermi tutti fermate il mondo voglio scendere ok il ghiaccio va di qua oppela qui 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 questo qui vabbè lasciamo perdere e qui ci mettiamo l'uranio qui di nuovo il ghiaccio 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 perfetto adesso ogni lato di questo tocca due di uranio e due di ghiaccio vorrei vedere vorrei misurare insieme a voi quanto cacchio sta produce producono questi cosi cioè non so se produce davvero 40 o è una cosa che la wiki scrive in maniera indicativa quindi hop 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 e hop questi qui sono tre sono sei per ora d'accordo poi ci possiamo allargare anche di qua quindi posso mettere altri due tipo che ne so qui ok andiamo a rompere anche questo ci mettiamo i due che ci rimangono patapim e patapem e qui ci servono tre pezzettozzi di uranion block che però ce l'abbiamo ma che culo ma che culo marcos corno ma che culo ok bam bam ora io alzerei un pochino perché qui non ci si vede niente e poi andiamo a collegare anzi mi prendo anche un trasformatore così vediamo quanta corrente produciamo eccomi qua con l'inventario un po' più pulito quindi dovreste essere contenti eh ragazzotti e andiamo a vedere come da funzia questo c'è la ok prendiamone uno soltanto quindi facciamo così ci mettiamo questo poi andiamo a metterci questo giustamente oppure no lo passiamo direttamente a questo per effetto andiamo a prendere gli hv facciamo così 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 e giustamente ci dobbiamo mettere questo per effetto vediamo un po' quanto ci dice che produce 42 rf su tic flux su tic quindi non è non è male ovviamente ragazzi io mi rendo conto considerando che gli altri producono 4000 ok ma dobbiamo fare degli impiantoni invece così è carina potrei anche dargli una collocazione diversa e non tenerla per forza qui ma prima devo fare la cosina del mending scusate del mending del sill touch che mi devo trasferire il picconcino quindi ho fatto con gli ultimi pezzi di uranio questi qui questi blocchi qui quindi andiamo a fare così così tanto non ce ne ho ho finiti devo farne altri devo farne altri vediamo la somma perché ragazzi ricordatevi che è la somma che fa il totale diceva Mario facciamo così sì 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 molto bene sì 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 fantasticissimo portiamo tutti questi bei cavetti qui e vediamo se la corrente ci soddisfa 314 bene ma non benissimo perché può supportare il low voltage che è 256 ma non light voltage ovviamente del tesla coil che è 500 quindi di questi qui dobbiamo fare altri ok perfetto però ci siamo quindi possiamo fare la strutturina bene ragazzotti la struttura anzi questa cosa non lo so come chiamare questo impiantino è finito e adesso sono rimasto bloccato dalle ventole perché mi sono scordato dalle accese ma va bene lo stesso allora guardate qua abbiamo usato i cavi della tensione normale e poi abbiamo usato questi i redstone wire connector per spegnere e riaccendere quella poi potrei usare i cavi per lo stesso motivo per spegnere e accendere questo senza dover ogni volta entrare sarebbe una cosa abbastanza faica quindi signore andiamo a chiudere purtroppo così il tanto il cane abbaia questa strutturina non ci dovrebbero essere in realtà neanche problemi anche rompendo qui perché dovrebbe essere abbastanza istantanea quelle ventole le portano lì e andiamo a vedere ok andiamo a vedere quanto mi consumano due di queste siete pronte stanno funzionando sei flux what sul serio così poco ah marcus sei scemo ah io ah ma io non ho l'armatura non ho l'armatura no di nuovo dove ho messo l'armatura ero convintissimo l'ho rimessa qui ero convinto di avercela giuro che ero convinto di avercela vai così e vai così ancora una dove stanno le mie eccola qua ok adesso sono faraideioso oh e non mi fa male non mi fa male non fa male adriana perfetto togliamo la pacifica ragazzi ho messo pacifica soltanto per quel motivo ve lo ricordo stanno facendo danno oh si da vedere fuoco alle cose minchia minchia se fa danno 25 flux forse l'hanno nerfato oh boh ragazzi qui c'è una cosa da fare eh c'è una cosa da fare vedere quanto gli quanto danno gli fa se lo switchiamo anche se ho paura che se lo switchiamo oh cazzo no mi scusi non mi dia fuoco mi darà fuoco allora facciamo così oppola vai così i blaze sono un bel diro eh ragazzi no 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 mi scusi mi scusi perché oggi è la puntata delle morti va bene ok ok allora abbiamo scoperto un paio di cose una è che guardate sta stronza regà vi rendete conto il raggio di quello height è più forte oddio ti prego ho rimesso l'esperienza dentro i libri sì è più lontano ne bastava una soltanto va bene va benissimo mi allontano mi allontano scusa cara guardate qua consuma molto di meno di quello che mi aspettavo e due e tre anzi con questo sistema possiamo bloccare qui le nostre amiche cicce cicce anzi attivare le nostre amiche cicce cicce senza dover penare andando qui dentro riscavando adesso poi lo chiudo con la storia che dolore che dolore che dolore che mi fai quindi funziona tutto quanto io spero che davvero vi piaccia fatte questo waypoint brutto 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 se ci avete delle idee su come sistemare questa zona sistemare questo mob spawner a livello estetico fatemelo sapere nei commenti questa cosa è inutile perché ci avevamo le spike ma secondo me come suggerimento dell'iscritto che ha fatto il commento e che ringrazio in questo frangente secondo me è molto più figo così vedere questi cosi che muoiono per delle scosse elettriche prodotte dal differenziale di temperatura o almeno voglio illudermi che sia così signori io cercherò di riprendere la mia roba evitando di morire folgorato in realtà basta che fai così oppela e adesso non ti dovrebbero più fulminare oh grazie ma siete assai gentili e visa all'ustro qui ci vediamo alla prossima puntata dell'immersive craft bella per voi ciao